Domenica 5 dicembre pomeriggio nel Museo Diocesano e Cripta di San Rufino ad Assisi si è attenuta la lettura teatrale del libro Le Tre Balse di Sorella Povertà sui passi di Francesco tra Foligno e Assisi, scritto dal Vescovo Domenico per l'inizio del suo Ministero Episcopale nella Diocesi di Foligno. Il volume, pubblicato da edizioni francescane e italiane, è dedicato all'Istituto Serafico di Assisi nel centocinquantesimo della Fondazione 1871-2021. La lettura teatrale è stata a cura di Giuseppe Brizzi, Luana Brozzetti e Carlo Menichini con le musiche di Paolo Piselli e l'ideazione e la regia di Giuseppe Brizzi. Durante la lettura curata dalla Scuola di Teatro Studio Assisi sono stati esposti alcuni disegni dei ragazzi dell'Istituto Serafico che hanno arricchito il testo. Dino che gli ultimi saranno dimenticati o saranno ricordati solo alla fine come ultimi appunto, non ci saranno che lemosine.